Nella testa di calciatori, dirigenti, tecnici e soprattutto dei tifosi del Martina, probabilmente c'è ancora il gol realizzato domenica scorsa in pieno recupero da Cerrutti. È la rete del definitivo 3-2 che ha permesso alla formazione della Valle d'Italia di battere al Tursi il Sava e collezionare il decimo successo nel campionato di eccellenza. In altrettanti incontri disputati, la squadra di Massimo Pizzulli guida sempre a punteggio pieno il girone B, con ben 8 punti di vantaggio sulla vicecapolista Augento. Faccio il complemento ai ragazzi, veramente perché sono stati eccezionali, perché non molte squadre prendono un gol, poi pareggiano, poi prendono il secondo su due seconde palle, lette male, poi pareggi addirittura, tieni la gara fino al novantesimo per poi fare il 3-2 che io penso sia meritato, anche per la pressione che abbiamo messo nel secondo tempo. Non c'è più tempo in ogni caso per godersi ancora l'emozionante vittoria di domenica scorsa contro il Sava. Il Martino infatti tornerà in campo già domani alle ore 14.30 per sfidare al Tursi. Il Città di Mola nella decisiva sfida del terzo turno di Coppa Italia di Lettanti si ripartirà dallo 0-0 della gara d'andata. La squadra di Massimo Pizzulli, inutile nasconderlo, punta con decisione alla promozione in Serie D e per riuscirci ha intenzione di giocarsi le proprie carte sia in campionato che nel percorso alternativo della Coppa. La stagione è ancora lunghissima ma il Martino è in realtà un obiettivo, lo ha già centrato riaccendendo l'entusiasmo dei propri tifosi. Conosco il pubblico di Martina, so che oggi siamo ancora al 50% delle potenzialità e anche la squadra deve fare ancora di più per avere la stima di tutta la città. Noi dal punto di vista tecnico e organizzativo si stia facendo il massimo per la categoria per cercare di essere una realtà che non rispecchia questa categoria con rispetto per tutte le altre squadre. Grazie.